Sì, grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente questa delibera. Mi sento di ringraziare come capogruppo tutti i consiglieri del Movimento 5 Stelle che oggi sono qui in aula e che fino all'ultimo giorno si stanno prendendo le responsabilità di essere consiglieri di Roma Capitale e gliene va dato atto, soprattutto per delibere come queste che sono delibere importanti. Detto questo vorrei solo chiarire che il Movimento 5 Stelle ha firmato e sottoscritto gli emendamenti presentati dal Partito Democratico e sottoscritti anche dal consigliere Fassina. Dico il Movimento 5 Stelle li ha sottoscritti perché io li ho firmati per l'intero gruppo nonostante ci sia la mia solo firma su quegli emendamenti e anche su questo ci tengo a sottolinearlo. Sono emendamenti che non vanno a correggere una delibera come è stato detto fino ad ora, sono emendamenti che vanno ad attualizzare una delibera perché la delibera era uscita dal percorso di giunta e delle commissioni formalmente corretta. Solo che successivamente ci sono stati degli accadimenti, degli eventi che hanno reso necessario una successiva modifica della stessa e giustamente l'Aula si è presa la responsabilità di farla e di questo ringrazio il consigliere Pelonzi che si è preso l'onere di scriverli. Con la votazione di questa delibera andiamo a voltare pagina, andiamo a chiudere un capitolo che non poteva più andare avanti poiché mancava un presupposto fondamentale, ovvero che anche la squadra di calcio, così come prevedeva e prevede la legge, sia disposta a firmare gli atti e a portare avanti una progettualità presentata dal proponente. Questo è l'inizio di un percorso, quello che mi sento di dire per il Movimento 5 Stelle che siamo pronti fin da domani ad accogliere le proposte che arriveranno dalle squadre di calcio della Capitale e valutarle al fine poi di permettere ai tifosi, ai cittadini romani di poter vivere un evento, uno spettacolo come quello di una partita di calcio in un posto confortevole e in uno stadio moderno. Grazie.